Ciao sempre con Don Gino, pubblicizziamo il corso di danza e poi le varie attività che si svolgono al Centro per Giovani. La CR è dietro di lavorare con Don Gino Rigoldi, con le sue attività come comunità nuova, le promuove e le sostiene. Guardate quante belle attività porta avanti comunità nuova. In particolare ha bisogno di coloro che vogliono sostenere un'esperienza nel mondo sociale e puoi scrivere o chiamare al 02 400 71 392 oppure con una mail al Centro per Giovani chiocciola comunitanuova.it Ciao